Buongiorno, ci rivediamo a distanza di poche ore, per esempio se si vede meglio la parte dell'esame grafologico ottimo, se non si vedesse granché bene l'importante è comunque avere la lezione, cioè sapere su quali dettagli ci si basa per l'esame grafologico di coppia. Quindi ritorniamo in ogni caso alla nostra parte delle due grafie che vediamo come ieri, lasciamo comunque il video di ieri e anche la sua ripetizione su youtube continueranno a essere attive, quindi abbiamo le due grafie maschile e femminile una accanto all'altra, ci passiamo direttamente sul nostro monitor a vedere le varie differenze. Cosa abbiamo detto ieri? Che la scrittura femminile, questa qui che in questo momento possiamo notare con delle linee leggermente più inclinate verso il basso, mentre invece quella maschile sono linee più diritte. Notiamo come la grafia femminile ha degli alti e bassi e soprattutto negli allunghi interiori, cioè tutte le aste che vanno verso il basso, c'è una discreta lunghezza, oltretutto trattandosi di una donna è notevole il fatto di questo rapporto con la concretezza, con la parte materiale della realizzazione dei progetti, mentre nel maschio c'è comunque una discreta concretezza, quindi un buon allungo inferiore anche per lui, ma notiamo come il maschio abbia una leggerezza maggiore, mentre la donna ha una forza maggiore negli allunghi inferiori. Quindi nella coppia chi prende maggiormente l'iniziativa a livello di essere più pratica, immediata, vediamo anche la distanza tra una parola e l'altra, più corta nella parte femminile e più lunga invece nella parte maschile, quindi chi è più veloce a prendere le decisioni e a concretizzarle è la femmina, ma nella coppia chi ha più idee e si vede dalle asole e dagli allunghi superiori maggiormente marcati nel maschio rispetto alla femmina, ecco qui gli allunghi più corti, la parte superiore delle lettere più corta e invece il maschio. Il maschio si attacca tantissimo al lato sinistro della grafia, è molto legato al passato ma quasi volesse lui dire e giustificare che è così e non mi va di cambiare perché tanto nel passato mi è successo questo, quest'altro, mi va bene in questo modo ma sono più che altro scuse perché non ci sono forti legami col passato, c'è solo questo atteggiamento di unione al margine sinistro, mentre invece la donna ha una distanza corretta col margine sinistro ma ha questi allunghi iniziali prima delle lettere che lasciano invece presumere che ha parecchio legami con il passato e difficoltà di iniziare le cose se non ha anche nella comunicazione pensato, ripensato e fatto dei lavori prima di tutto elaborativi per riuscire a superare le sue ritrosie ad iniziare a fare le cose quindi più impulsiva ma solo dopo aver inizialmente, si vede proprio nelle primissime lettere addirittura ricolorate, riscritte e in questa V che non sovrasta la lettera successiva, ci sono delle ritrosie da parte sua a fare le cose spontaneamente, lei è meno spontanea, lui invece è più idealista, lei è più portata per andare verso il futuro con una certa ritrosia anche in questo caso è più indietro la grafia rispetto al margine destro una certa difficoltà a fare la cosa che la possa avvicinare troppo ai suoi limiti, quindi è più prudente mentre il maschio è meno prudente, si avvicina ai suoi limiti e addirittura ci va vicinissimo in certi casi la coppia si può vedere come sia abbastanza affiatata, naturalmente ripeto che la coppia si forma per tutt'altri motivi non quelli grafologici, due grafie che sono perfettamente compatibili, di due persone perfettamente compatibili non necessariamente devono poi mettersi insieme e stare insieme e volersi bene, perché sono compatibili ciò non significa che siano anche delle persone che poi nasca un qualcosa in loro di genere diverso per formare una coppia, ma se la coppia esiste e si vanno a vedere le possibilità di connessione tra le due persone qui come abbiamo visto ce ne sono tante, tante similitudini che si differenziano per poco e uno compenetra l'altro nel modo per riuscire a stemperare gli eccessi di uno con le capacità invece di essere più paziente, più idealizzato l'uno, più pratica, più concreta l'altro quindi si integrano bene si possono scontrare dove? ebbè quando lui accampa troppe scuse e tentenna troppo ad iniziare a fare le cose oppure si confonde o si tiene, vediamo i tagli T molto ritrosi si tiene troppe cose dentro e non le dice lei che invece è una persona molto pratica e concreta e molto legata anche alle difficoltà del passato che l'hanno frenata, magari potrebbe avere delle scariche di aggressività dato che l'aggressività ce l'ha sia lei e lo vediamo molto ben espressa dagli allunghi del filetto terminale della A e anche lui spesso inserisce dei tratti di aggressività negli allunghi finali potrebbero venire ogni tanto a degli scontri non tanto sul verbale ma quanto con picche e ripicche di comportamento dove l'una si chiude e l'altro tenta di non prendersi certe responsabilità ecco in questo però si tratta di due scritture di persone persone che dimostrano una buona capacità di controllo una buona capacità di entrare in sintonia con gli altri le parole sono con le loro lettere legate una all'altra c'è fluidità di scrittura sia per l'uno che per l'altro quindi sono persone non a rischio di particolari tipi di litigi troppo violenti e tutt'altro ma ogni tanto ci possono essere questi screzzi dove il comportamento dell'una è quello che torna a vederci bene la grafia boi e faus mettiti a posto che se no qui di nuovo non si vedono bene le scritte eccolo che è arrivato al meglio quindi lei tenderà di più a chiudersi in se stessa ricordando il passato che l'ha frenata lui invece tenterà a essere confusionario e a non prendersi certe responsabilità perché tentenna tentenna e poi non decide ma proprio in questa loro caratteristica sulle vere decisioni della vita da prendere essendo tutte e due pratici intelligenti e capaci di essere in ottimo rapporto con gli altri possono trovare l'uno nell'altra un ottimo partner essendosi scelti per fare un buon cammino di vita a questo punto mi sembra che non ci sono più stati messaggi particolari anche da parte della linea web di linea debole speriamo che tutto sia andato meglio della volta scorsa dove la lezione è andata bene ma purtroppo il video non ci ha sorretto mettendo insieme un po' le due cose vedete voi mischiatele qui ci si arrangia sempre e siamo persone molto pratiche ora è ricomparsa anche la lente per vedere meglio certi dettagli grafologici di ingrandimento ecco c'è di tutto e di più quindi dal libro alla grafia anche oggi abbiamo fatto un buon tipo di lezione esame di coppia era dedicato a San Valentino era ieri e noi lo festeggiamo pure oggi ogni giorno è buono per festeggiare l'unione che mette insieme il principio maschile e femminile della vita quindi benvenuti su Omolux continuate a seguirci a mettere i like e a seguire anche i video di Youtube tutto è sempre ripubblicato sul sito Omolux arrivederci e grazie